Quella di domani sarà già la terza sfida contro Tortona e pensare di essere già la terza sfida con una neopromossa è particolare però oggettivamente ci dà modo di ripartire da dove in Supercoppa avevamo purtroppo lasciato. Sicuramente nell'arco degli 80 minuti Tortona ha avuto il controllo totale di questa sfida. Noi siamo riusciti in casa ad avere una fiammata importante che aveva riaperto la partita cosa che invece al contrario non siamo riusciti ad avere sul loro campo però complessivamente è chiaro che il gioco che in quel momento la fluidità, l'intensità, la precisione del gioco che esprimeva Tortona era nettamente superiore al nostro e quindi questo è un dato di fatto da cui noi siamo partiti poi al termine della Supercoppa per affrontare l'analisi di quello che era il nostro livello, il nostro stato di condizione e quanto a strada ancora dovevamo percorrere per provare a essere competitivi in questo campionato. È chiaro che le prime partite della stagione regolare ci hanno dato indicazioni relative a una discreta crescita da parte nostra rispetto a quei tempi. È chiaro che oggi abbiamo grandi aspettative per capire proprio in relazione a quella che era stata la differenza di valori della Supercoppa per capire qual è il nostro reale tasso di avvicinamento a quel livello. Onestamente questa è una gara dove i confronti individuali sono un pochino in tutti i ruoli è chiaro che i due parallelismi più affascinanti sono quelli fra Wright e Sanders e fra Daum e Grazulis però è evidente che c'è molto altro perché sotto un certo profilo anche l'esuberanza, la freschezza e la fisicità di Sagaba con Ate contro lo straordinario mestiere, la classe, il talento puro di Kane rappresenta un altro scontro importante per quella che sarà l'economia della gara per cui credo onestamente che là dove c'è ovviamente il riconoscimento di un fascino particolare e soprattutto per Trieste il rivedere Sanders e il rivedere Chris Wright ovviamente rappresenta sempre un momento di contatto con un passato importante e di grandi successi è evidente che noi dobbiamo pensare ad allargare un po' la sfida e a non rendere poi un singolo confronto individuale come quello chiave, decisivo anche se sicuramente la cabina di regia e il tipo di rendimento che potranno avere questi due giocatori risulterà particolarmente importante pur parlando di due giocatori che hanno caratteristiche tecniche, fisiche e quant'altro completamente diversi l'uno dall'altro. Le chiavi tattiche di questa partita sono, mi verrebbe da dire, semplici nella loro complessità nel senso che togliere fluidità al gioco d'attacco di Tortona riuscire ad avere un buon presidio dell'area senza rinunciare alla pressione sui tiratori perché la loro grande capacità è proprio quella di attaccare l'area e di aprire sugli scarichi grandissimi spazi per una batteria di tiratori che è fra le migliori di questo campionato parliamo della squadra che è al secondo posto nel numero di triple tentate per partita e che segna 33 punti a partita dall'arco dei 6-25 quindi lì dovremmo essere capaci di alzare di un passo la difesa senza che questo scopra troppo l'area dove comunque sono in grado sia con la penetrazione delle guardie che con il gioco dei lunghi di fare male a chiunque quindi da questo punto di vista difensivamente avremo questo grande compito ma anche questa difficoltà da affrontare sotto profilo offensivo migliorare la fluidità del gioco abbassare il numero di errori di palle perse e cercare di attaccare quelli che possono essere uno o due punti deboli del sistema difensivo dei nostri avversari che è consolidato e che è basato anche sul mestiere e sull'esperienza di tutti i giocatori a disposizione di Coach Ramondino grazie a tutti